Che skating noi mi sono giocato caro! Senti ma che stai a fare? Oggi è la giornata della fantagazzetta no? Oggi dovrei mettere i miei titolari. Comunque io la scorsa settimana ho vinto la skaternona. La skaternona è uno spettacolo guarda mi sono giocato la torre della spagna nazionali bravo sì insomma tre quattro partite e ho vinto finalmente ho vinto una cavolo di schedina era ora ora dopo che hai giocato? Era diciamo un tantinello probabile come tu pensai no? Non mi dire. Vi sono giocato 2 euro. Che cacchio hai giocato? 2 euro. Hai vinto? Vediamo. 12 e 50. E' chiaro che sia vinto. Ma vaffanculo fortuna va. Cazzo ti trovi 2 euro per vincere 12 euro fai come... E tu invece che ti fai le schettine di 2 euro con 20 partite non vinci mai. Magari stai giocando la skaternona fai dove mancano questi tre però intanto sai che si fai 10.000 euro di 230. Si si tu sei capace di dire tipo io guarda mi mancano queste tre cioè che cosa la vittoria del Kievo contro la Juve per esempio non vincerà mai comunque. Magari. Viva le schettine più probabili. Infatti infatti sono più probabili che queste mo le rigioco io. No questa madame è un. Cavolo fai. No no no. Ti faccio vedere come ti chiedi. Eh gioco io che cavolo. Vado dai soldi tuoi e tu e non mi mischiare negli affari. Vabbè a proposito di schedina ritorniamo ai fanta cazzo. Ma un culo te l'hai picchiato vuoi? E tu che cazzo vuoi? Ma che cazzo che vedo? Un culo il giocatore. Ah no quello se l'ha giudicato ciccio grazie a Dio. Va bene quindi magari la prossima le rigioco. Così lasciamo 12 euro alla settimana. Ti dico solo che questa ti dico solo una cosa. Sì. Siccome non lo so hai vinto questa schedina no? E sono 12 euro. Devo gestarli. Fermo no. No ti ammazzo. E chissà. Tanto sono 12 euro. Che cazzo sono 12 euro? Me ne so andare. Ma vaffanculo va. No vedi quello strozzo di portarci due. Oh 12 euro. 12 euro. C'erano qua dentro 12 euro. Ma ti rendi conto? Sei morta di fame oggi. Mannaggia tua. Ah. Pure una schedina rovinata. E comunque mi mancava ancora la Juve di questa settimana. Me ne ho giocato la settimana successiva. Stop. Fortuna. Ma vaffanculo tu e le schedine di merda che dei giorni. No vaffanculo va. Grazie a tutti